Fra P-Radio sono Chiara Nicoletti dalla ventesima edizione di Alice nella città, sono con Casa di Lego e Luca Zunic, tra i protagonisti di My Soul Summer, di Fabio Mollo. Questo mi è sembrato un film su trovare la propria voce, come dice il personaggio di Tommaso Ragno da Anita, perché credo la troviate entrambi, ognuno a suo modo. L'avete vissuto così? Sì, personalmente ti dico che penso hai detto proprio le cose giuste, come erano, perché Vittore ha un cambiamento durante il film, lo vediamo all'inizio che è passivo la musica, non gli interessa perché c'è altri problemi a cui pensare, ha vissuto un'adolescenza molto difficile dovuta alla carcerazione dei propri genitori, quindi il cambiamento penso sia evidente poi nel mio personaggio. Sì, sono molto d'accordo con il fatto che da queste solitudini tutti quanti trovino la propria voce attraverso la stessa cosa ma in modo diverso. Grazie alla musica in un certo modo tutti, chi in maniera proattiva, chi invece c'è chi ne giova dallo strascico, come Vittore ad esempio, secondo me. Quindi sì, è vera questa cosa. Mi è sembrata questa anche una storia di grande accettazione l'uno dell'altra, c'è un momento molto bello in cui Vittore imita Anita al pianoforte, però la imita con amore. Non so se avevate percepito questo legame che cresce e anche questa capacità di accettare proprio dei vostri personaggi. Sì, tantissimo, ma infatti poi anche con Fabio l'idea era proprio quella di staccare il rapporto in due fasi diverse. La prima che all'inizio del film in cui appunto per Vittore e Anita è quasi un marziano, non si capiscono proprio, non si parlano, perché vengono da due contesti fondamentalmente completamente diversi. Sì, è un po' questo, ecco. Sì, assolutamente, è vero. C'è tanta accettazione da parte sia dell'uno che dell'altro, perché sono diversi fondamentalmente. Sono chiusi, c'è questo muro altissimo e poi a un certo punto in qualche modo, grazie all'ascolto, all'accettazione si rompe, è vero. Si parla tanto di coming of age, di racconto di formazione come questo. L'avete passato da poco o forse ancora non l'avete del tutto? Cosa significa secondo voi, ecco, formarsi, trovare la propria voce? Beh, io penso che questa età adolescenziale è una delle età principali della vita, perché sono gli anni in cui una persona si forma, capisce quello che vuole fare poi nella vita e poi nello stesso tempo c'è una lotta nel cervello incredibile fra cosa è giusto, cosa è sbagliato, però penso che sbagliare è fondamentale, anche se appunto ci porta a uno sbaglio, il sogno è sempre concesso. Che bello, è vero, è vero. Se l'abbia passata oppure se me la ricordi, sai che non lo so, il fatto che non ne sia sicura probabilmente vuol dire che deve ancora arrivare. Sicuramente ho sentito addosso dei passaggi, la fatica, gli errori, il sogno, è molto vera questa cosa, sono tutti racchiusi in questa età nello specifico, poi sempre nella vita. Se lo facciamo bene e in maniera giusta quando si è giovani, poi quando si cresce non si smette mai di sognare davvero, secondo me. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie mille. Io ti ringrazio Casa di Lego, Luca Zunic, tra i protagonisti di My Soul Summer di Fabio Mollo, alla ventesima edizione di Alice nella città, e io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider. Grazie.